Nuoro si conferma capitale dei diritti umani e da lunedì 15 luglio fino al 20 ospiterà la quarta edizione dell'International Summer School sul futuro dei diritti umani in Europa, che vedrà la partecipazione di corsisti provenienti da 12 paesi europei ed extraeuropei, un'iniziativa promossa da Unenuoro dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari. Nuoro sottolinea una nota dell'Università, si conferma territorio chiave per abbattere i muri dei pregiudizi, anche e soprattutto nei confronti dei soggetti deboli, minori, disabili e migranti e per confrontarsi sui rischi connessi alla preoccupante ascesa dei nazionalismi, col conseguente rischio di un processo di disintegrazione europea, vedi la Brexit, e su tematiche quali il rapporto tra scienze e diritto, testamento biologico e eutanasia, fecondazione assistita, diritto alla privacy nel web. Tutti questi fondamentali argomenti sono il contenuto del programma della Summer School di quest'anno. L'iniziativa come direttore scientifico, la professoressa Gabriella Ferranti e come responsabile organizzativo, Maria Cristina Carta, entrambi dall'Università di Sassari, di livelli docenti che vantano importanti esperienze non solo accademiche, ma anche all'interno delle istituzioni europee. Tra questi Ezio Perillo, giudice della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Domenico Vallario, assistente giurista della Corte Europea dei diritti dell'uomo, Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Centro Studi sui diritti della persona e dei popoli recentemente istituito a Nuoro. Le attività didattiche svolgeranno nella sede dell'Università Nuorese in via Salarisi, che metterà a disposizione aule e laboratori iscritti alla Summer School. Inoltre potranno godere delle stesse agevolazioni previste per gli studenti universitari di Nuoro, che sono in possesso della Carta dello Studente. Potranno visitare gratuitamente i luoghi della cultura della città e partecipare a momenti di socializzazione al fine di promuovere lo scambio di buone pratiche e di esperienze nell'ambito della tutela dei diritti umani.